Salve a tutti da FIP Porte Italiane, con questo video tutorial di oggi vi mostriamo come invertire il senso di apertura del vostro maniglione antipanico, che è una procedura che a occhio può sembrare complicata, ma in effetti non lo è. Sempre all'interno della scatola troverete le due maniglie, una barra d'alluminio che dovrete tagliare a misura in base alla porta e bulloneria varia. Nel caso in cui il senso di apertura che vi serve fosse diverso da quello predefinito, vi basterà spostare una levetta. Vi mostro quale. Rimuoviamo entrambe le mascherine. La levetta da sbloccare si trova all'interno del meccanismo. Ripetiamo adesso la stessa operazione con l'altro meccanismo. Come vi ho dimostrato, è una procedura che richiede solamente pochi minuti e può risolvere grossi problemi.